E' quantificato in 20.000 euro il danno provocato al negozio di abbigliamento Calabro nel centro di Canicattì, dove alle 4.20 circa di ieri alcuni malviventi utilizzando Comarieto una Fiat Panda hanno sfondato la vetrata dell'attività commerciale. Nonostante l'allarme si sia attivato tempestivamente, i criminali sono riusciti a rubare e portare via alcuni capi di abbigliamento griffato a bordo di una Fiat Panda che è risultato essere stata rubata ad una Canicattinese. Sono partite subito le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Canicattì, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, per cercare di identificare quanto prima i ladri entrati in azione. Intanto il brutto episodio ha turbato l'intera comunità della cittadina agrigentina. I militari dell'arma hanno comunque già acquisito le registrazioni e i video degli impianti di videosorveglianza posta a presidio del negozio, ma anche di altre attività commerciali nelle vicinanze. La famiglia e tutto il gruppo Calabrò nel frattempo ha ringraziato tutti coloro che stanno dimostrando grande affetto e solidarietà a seguito dello spiacevole avvenimento. Un ulteriore ringraziamento, infine, è stato rivolto alle forze dell'ordine, impegnata a fare luce sull'accaduto.